buongiorno a tutti e benvenuti all'approfondimento del certificato della settimana il certificato che abbiamo voluto approfondire è un certificato difensivo su un settore difensivo abbiamo pubblicato un articolo su eh trader link che potete trovare appunto nella eh rubrica degli scelti per te e questa settimana appunto dedichiamo anche un approfondimento video in particolare possiamo andare a vedere di cosa si tratta è un certificato emesso da Fontobel eh con scadenza tre anni il nome è cash collect memory airbag step down ogni passaggio del nome naturalmente corrisponde a una caratteristica innanzitutto andiamo a vedere su cosa si investe implicitamente il basket scelto dall'emittente svizzera è composto da quattro titoli del settore delle utilities molto penalizzato nell'ultimo anno ma in prospettiva estremamente interessante i titoli scelti sono Enel, Engie, Veolia e Iberdrola quindi quattro utilities di quattro aree differenti al momento dall'emissione del certificato eh le performance come è possibile vedere sono tutte positive con il titolo Enel leggermente più indietro rispetto agli altri con un rialzo dello zero trentanove per cento la dinamica che vede Enel sotto performare è una dinamica che ci portiamo avanti in realtà da oltre un anno e questo è ad esempio il grafico comparativo dell'ultimo anno dove è possibile vedere come Enel sia il titolo più debole con una performance di meno ventotto per cento quattordici sono invece i punti persi da Veolia sempre nell'ultimo anno mentre in territorio positivo vediamo Iberdrola ed Engie con rialzi nell'ordine del dieci per cento particolarmente interessante quando si analizzano i certificati su basket è andare ad osservare la correlazione tra i componenti del paniere in particolare è possibile andare a vedere come la matrice di correlazione ci restituisca un valore medio alto ovvero la correlazione media è di circa lo zero sessanta il che vuol dire che uno tipicamente la correlazione piena zero e assenza di correlazione siamo comunque spostati nella parte medio alta per quanto non sia effettivamente così alta come ci si potrebbe attendere da quattro titoli dello stesso settore la correlazione più bassa è tra Iberdrola ed Engie con uno zero virgola quarantasette e nove e tra Iberdrola e Veolia con uno zero quarantacinque e nove tuttavia sono numeri in linea con la struttura che è stata costruita da Fontobel per questo andiamo a vedere più nel dettaglio appunto la struttura ricordando prima però un altro aspetto fondamentale quando si va ad investire in certificati è necessario andare ad analizzare anche la componente della volatilità in particolare la volatilità implicita i quattro titoli sono caratterizzati da volatilità tutto sommate basse a Iberdrola ha una volatilità implicita a trenta giorni del diciotto per cento Engie del ventidue per cento Enel del ventiquattro e Veolia è un po' più alta al ventisette per cento sono comunque volatilità tutto sommato contenute di poco superiori a quelle dell'indice Vistox che è l'indice che misura la volatilità implicita delle azioni del mercato europeo a questo punto andiamo a vedere in più nel dettaglio il certificato cosa fa e perché è stato ritenuto interessante dal nostro ufficio studi partiamo dal potenziale rendimento il certificato prospetta cedole mensili con effetto memoria pari allo zero virgola novanta per cento il che vuol dire che il rendimento prospettato da questa emissione ammonta al dieci virgola otto per cento anno lo zero virgola nove per cento al mese che verrà pagato a patto che tutti e quattro i titoli rileveranno in occasione delle diverse date intermedie con frequenza mensile almeno al 65 per cento dello strike iniziale provenendo da un anno particolarmente debole e complesso per il settore delle utilities in virtù del rialzo dei tassi di interesse c'è da attendersi che in prospettiva questa barriera possa essere considerata sufficientemente difensiva per l'incasso delle cedole ma qualora dovesse esserci un ribasso anche temporaneo un po più importante è da rilevare la presenza dell'effetto memoria che consenterà quindi di non perdere nessuna cedola per strada fino alla scadenza massima dei tre anni opzione di rimborso anticipato presente a partire da maggio duemilaventitré ovvero dalla sesta data il che vuol dire che in ogni caso il certificato potrà pagare prima di essere rimborsato sei cedole dello zero virgola novanta per cento ovvero un totale rimborso di centocinque virgola quattro euro particolarmente interessante è il posizionamento del trigger per il rimborso anticipato ovvero la condizione che attiverà l'esercizio automatico dell'opzione auto callable è fissato sin dalla prima data al novanta per cento il che vuol dire che anche in caso di ribasso del dieci per cento di uno dei titoli il certificato andrà in riborso anticipato è una condizione particolarmente favorevole per l'investitore perché anche in caso di ribasso si sarà in grado di ottenere capitale più rendimento inoltre ogni sei mesi questo livello scenderà del cinque per cento per diventare infatti come si può vedere pari all'ottantacinque per cento per il semestre successivo ancora ottanta per cento fino ad arrivare al settanta per cento questo vuol dire che ancora prima della scadenza anche a fronte di una discesa del 20 25 30 per cento da parte di uno dei titoli il certificato rimborserà i cento euro più tutte le cedole fino a quel momento maturate già pagate o eventualmente rimaste in memoria ricordiamo che questa caratteristica è particolarmente difensiva perché consente al prezzo di rimanere un po' più sostenuto un trigger step down cioè un livello che scende di semestre in semestre permette al prezzo sul secondario di rimanere un po' più alto rispetto alla performance del sottostante quindi lato rendimento il abbiamo detto cedole mensili dello zero novanta per cento passiamo ora all'aspetto della difesa il capitale è interamente protetto a scadenza fino alla barriera del 65 per cento che sulla carta può sembrare non particolarmente profonda ma è da rapportare innanzitutto alla volatilità dei titoli e in seconda battuta alla all'importante opzione airbag che è stata inserita in struttura grazie a questa infatti ricordiamo l'opzione airbag è quell'opzione che permette di calcolare le perdite a scadenza solo partendo dal livello barriera in giù e non dal livello iniziale ecco l'opzione airbag consente come è possibile vedere dall'analisi di scenario di ridurre le perdite fino al dimezzamento ovvero nell'ipotesi sciagurata che uno di questi titoli dovesse scivolare del 50 per cento dei prezzi attuali alla scadenza il certificato comporterà una perdita del 23 per cento questo senza tenere conto di eventuali cedole nel frattempo incassate pertanto è una struttura molto difensiva su un settore destinato a probabilmente a riprendersi con un rendimento che oltrepassa il dieci per cento su base anno l'attuale prezzo è di cento virgola quaranta euro quindi è partito adesso da poco ed è praticamente sui prezzi di emissione e come detto i sottostanti registrano già una buona performance per questo motivo il certificato al nostro avviso è meritevole di attenzione ed è interessante per un approfondimento per analisi come questa per il nostro certificato da settimana vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube ched lab academy grazie a tutti